Abbiamo fatto una grande gara, perché mi piace anche pensare di fare un punto soffrendo così, è un punto di squadra. Sostanzialmente non avete permesso al Pescara di giocare, vi siete difesi a 5, più De Vrij e Pucciarelli che andavano a 7 in difesa, era praticamente impossibile per il Pescara trovare lo spiraglio. Il piano gara era quello perché conoscevamo le loro abilità e quindi dovevamo soffrire così. I ragazzi hanno fatto un'ottima gara sotto tutti i punti di vista perché poi non è facile giocare in un ambiente così, contro una squadra così, però abbiamo dimostrato un'altra volta, mi piace rimarcare, di essere squadra, di crederci fino alla fine e poi ripeto, in qualche situazione di ripartenza, se fossimo stati un po' più precisi avremmo anche potuto guadagnare qualcosa in più. Chiaramente il riferimento a De Vrij quando Brosco è arrivato in scivolata nel primo tempo, chiaro che lei fa il suo lavoro, la sua squadra ha fatto il massimo rispettando quelle che erano anche le caratteristiche del Pescara, ma chi dice che non si è visto un bello spettacolo perché era impossibile giocare, cosa risponde? Che certe partite di calcio vanno fatte con la testa, col cuore, con tutto quello che hai e poi io credo che riconoscere il proprio valore sia molto importante per tutti i club. Noi riconosciamo il nostro, rappresentiamo una città bellissima, rappresentiamo una tifuseria forte che ci ha sostenuto e per noi questa era la gara da fare. Chi si vuole divertire di più, io dico c'è il Luna Park, il Circo, lì si paga il biglietto, ci si diverte. A calcio spesso ci sono queste partite e per noi era fondamentale fare in questa maniera qua.